Ciao, sono Beatrice Di Salvio, insegnante di canto moderno presso il Soundcheck Studio di Prato. La voce è lo strumento alla portata di tutti, la usiamo costantemente, ma spesso ci sentiamo limitati o affaticati. La tecnica vocale ci permette di essere liberamente al servizio dell'emotività. In più, io avendo vissuto tanti anni all'estero, pongo molta attenzione alla pronuncia e alla comprensione dei testi in inglese. Contattaci per una lezione gratuita! Grazie per la visione!